E' stata inaugurata a Villa Marchiano l'esposizione di 200 quadri ed alcune sculture dedicata alla collezione del grande artista arbeche Giuseppe Marchiano, pittore eclettico d'arberia calabrese che prima di morire ha espresso la volontà di donare l'intero patrimonio artistico alla comunità di San Demetro Corone. Giuseppe Marchiano mio padre torna e io sono estremamente felice di aver realizzato il suo ultimo desiderio che almeno i suoi quadri potessero tornare a casa, potessero ritrovare le loro radici e questo è avvenuto grazie alla immensa generosità dell'amministrazione del comune di questo vostro borgo meraviglioso. Il comune non sa come esprimere, non sappiamo proprio come esprimere la gioia di questo momento così importante, arricchisce questa bellissima villa, tutte queste opere, tutta questa storia che c'è all'interno di questa splendida struttura e soprattutto la bellezza interiore che c'è anche nella professoressa Marchiano per aver donato queste opere. Un ritorno a casa che per il pittore San Demetrese non rappresenta solo un luogo d'origine dai Marchiano d'Arberia Calabrese, ha un concetto esteso agli albanesi d'Italia e agli albanesi d'Asia. Un lascito pittorico che testimoni il talento creativo dell'artista e sottolinea l'inquietante spirito di un uomo reciso a rifugiarsi dalla vita attraverso un migliaio di dipinti e decine di scritti rimasti per lo più inediti. Un pittore dalla forte e intensa capacità espressiva ma soprattutto un esploratore di tratti e stili che l'artista apprese durante i suoi tanti viaggi, percorsi lungo tutte le coordinate del mondo. Lui ha sperimentato tutti gli stili a partire dagli studi all'Accademia di Napoli fino all'astratto, fino a riprodurre i tarocchi mondiali di cui ha una bellissima collezione e quindi come dire c'è un po' tutto il Novecento nella sua pittura. Difatti è stato definito un pittore eclettico del Novecento italiano. Oggi parte un progetto che è denominato San Demetrio in Arte ed è la prima di una serie di mostre che per tutto il 2023 ci vedrà occupati. In attesa poi dell'evento che teniamo ogni due anni che è la Biennale d'Arte Magna Grecia. Noi riteniamo che la cultura sia un volano importante e puntiamo proprio su questo per dare sviluppo al nostro territorio, al nostro comune.